Buongiorno a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con ASEA Notizie. Anche questa volta abbiamo un imprenditore con me, un imprenditore della provincia che rappresenta una delle aziende più importanti del nostro territorio, Stefano Moretti, la nuova generazione, chiamiamola così, della Moretti Trasporti di Sorbiate Arno, un'azienda radicata ormai da anni sul territorio che rappresenta appunto, ripeto, un importante punto di riferimento. Stefano è all'interno del Consiglio di ASEA ed è anche membro della FAI, per cui della nostra federazione a livello nazionale. Approfittiamo della sua presenza appunto per dare uno sguardo un pochettino più ampio rispetto alla nostra provincia, alla situazione generale. Tra pochi giorni ci sarà un incontro con il Ministro, dopo appunto un po' una lunga attesa. Quali sono le problematiche aperte ancora che andranno discusse in questo incontro? Buongiorno a tutti, intanto ringrazio Mauro, Dottor Iringhelli per avermi invitato a parlare di queste tematiche molto importanti, molto calde in questo momento, inizio anno, con il governo nuovo che ti sta interessando alle tematiche dell'autotrasporto e speriamo che ci risolva qualche problematica o comunque ci dia qualche risposta. I temi quelli più caldi sono bene o male i soliti, il problema sempre del Brennero, del contingentamento dei passaggi sul confine austriaco è un tema molto caldo. Noi personalmente come azienda non facciamo tantissimo quella tratta, ma essendo io in Consiglio ASEA e in Consiglio FAI è un tema che viene molto sentito, soprattutto dei trasportatori della zona del Trentino, del Veneto, ed è un tema importante perché è una linea di passaggio fondamentale per il Nord Europa, per i traffici con la Germania e con il resto del Nord Europa, perché è l'unica senza tunnel. È una problematica che non è solo dell'autotrasporto, ma chiaramente è una problematica dell'economia italiana, dell'economia europea, per cui non è solo un nostro problema di settore, ma deve essere visto e deve essere portato avanti come un discorso complessivo economico. Altro aspetto importante è quello delle risorse, perché ancora una volta purtroppo ci troviamo con delle risorse stanziate, ma ancora non utilizzabili. Esattamente, esattamente. Il tema dei soldi ci sono, ma come possiamo impiegarli, come possono essere impiegati? Qui il governo ci darà risposte da questo punto di vista. Sì, sono stati stanziati lo scorso anno questi soldi a fronte dell'aumento che c'è stato del carburante, del carburante, purtroppo non c'è ancora materialmente la possibilità di utilizzare, per cui le aziende sono in difficoltà e di conseguenza è necessario che il governo anche su questo punto intervenga e dia delle risposte, perché è ancora più assurdo che i soldi siano stanziati e non ci sia la possibilità appunto di utilizzarli e di aiutare le aziende in un momento veramente così difficile. Per cui speriamo veramente che questo incontro porti delle risposte positive, anche perché poi ci sono altri argomenti più normativi, più tecnici, come quelli dei costi minimi, quelli dei pagamenti, dei tempi di attesa. Penso che sui pagamenti e i tempi di attesa Stefano possa dire qualcosa in viva voce. Diciamo che sono argomenti sempre caldissimi, soprattutto quello dei pagamenti, i famosi 60 giorni da normativa che purtroppo non sempre vengono rispettati, ma ci vuole giustamente un organo di controllo che tuteli il settore dell'autotrasporto da questo punto di vista. il discorso dei tempi di attesa, se si pensi solo alla GDO, alla grande distribuzione organizzata, i tempi di attesa sono veramente un problema, un costo che le aziende di trasporto non sono più in grado di sostenere. E in questo caso il governo sta lavorando, c'è un tavolo aperto e speriamo che si riesca a raggiungere un obiettivo, un obiettivo reale, tangibile. Sì, sì, anche perché su tutti e due questi argomenti le normative ci sono, le regole ci sono, bisogna farle rispettare, perché ripeto anche sui tempi di attesa la normativa è chiara, con dei risarcimenti dopo un certo numero di ore di attesa, purtroppo però alla fine è difficile portare a casa quello che la normativa prevede. Niente, ringraziamo, ringrazio Stefano per la sua presenza, senz'altro magari ci rivedremo più avanti sperando con buone notizie e ringrazio voi per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.